Buongiorno e bentornati. Siamo trovati in questa edizione di mattino 6, mercoledì 31 gennaio 2018, sfoglieremo tra pochissimo le pagine dei quotidiani locali ma anche le prime nazionali, chiaramente la politica farla da padrona con le liste per le prossime elezioni, quelle del 4 marzo. Iniziamo subito dalle prime pagine in generale delle testate abruzzese e quindi dal centro le quattro edizioni provinciali. Siamo su quella di Pescara con l'apertura, qui un palazzo da abbattere sulla riviera a Pescara, incompiuto da 20 anni e da ricostruire con un piano in meno. E poi sotto la testata sono sette le belle sfide e D'Alfonso scrive mi taglio lo stipendio, abruzzo verso il voto del 4 marzo. E poi ancora la fotonotizia al centro, braccio di ferro sulla pista cicliabile in via Muzzi, ambientalisti, commercianti e residenti a confronto. E poi di spalla alcuni richiami a Pescara, studente 25enne morto in Pineta, oggi l'autopsia. E poi sempre a Pescara atti persecutori all'amico Baccaro e Libero. A Francavilla furto in casa, arrestati padre e figlio. In Barso assistenza a rischio, disabili, mancano 8 milioni, cop sociali senza stipendi. E quindi il buongiorno abruzzo di Giuliano Di Tanna, se i giudici non cambiano la pagella. E siamo ora all'edizione di Chieti del centro. Questa è l'apertura, ricatto sessuale, arrestato Gigolo a Chieti, minaccia un anziano per 1.500 euro, preso con la busta dei soldi. E poi la fotonotizia, cerimonia a Ripateatina, il battesimo civico dei diciottenni, una lezione con Legnini. Di spalla, vasto, pronto soccorso, aggredite due infermiere. A Lanciano, concorso Sasi, la procura apre l'inchiesta. E sempre a Lanciano, trappola ZTL in un anno, 16.000 multe. Andiamo ora a vedere l'edizione Terramana con l'apertura. Anziani, 400 senza il posto letto, non bastano le strutture di ricovero in provincia. La ASL corre ai ripari. E poi, al centro, la fotonotizia, l'NBA, Maika Tifa per il Roseto e il suo amico Carlino, il campione al Palamaggetti. E poi, di spalla, piazza Garibaldi, pedoni investiti sulle strisce, due in ospedale a Terramo. Silvi, ipotesi, tassa di soggiorno, ed è già protesta. A Sant'Egidio alla Vibrata, ruba il Bancomat alla nonna e preleva 8.000 euro. Vediamo ora la prima pagina del centro, edizione Aquilana. L'apertura muore nell'impastatrice, ha 53 anni. Tragedia sul lavoro a Capistrello, vittima all'imprenditore Di Marco. La fotonotizia, studenti alla scoperta dei segreti della Costituzione, incontro con il vicepresidente della consulta all'Aquila. Sempre all'Aquila, le aziende, tasse da ridare, ci rifaremo su chi ha sbagliato. E poi, in Marsica, da Ielli, rubano le luci del monumento restaurato. E invece a Sulmona, poco personale, prorogati i permessi ZTL. E adesso vediamo la prima pagina del messaggero Abruzzo. Ecco qui l'apertura. D'Alfonso punta un ministero, il capolista del Senato. La mia è una scelta ragionata per riportare l'Abruzzo al governo. Il precedente di Gaspari, le grandi opere da realizzare, la guida della regione lasciata a Lolli. Sotto la testata. Ecco qui a Pescara, braccio di ferro sul mercato etnico alla stazione. A Giulianova, all'auto manca la revisione, i vigili urbani restano a piedi. E poi per il calciomercato, oggi è l'ultimo giorno. Pescara, il ritorno di Fiamozzi al Teramo arriva a quadro. Stasera a Milano si chiude il mercato. Verrà annunciato il terzino di proprietà del Genoa. Intanto Tulli saluta i biancolossi e va a Trieste. In realtà l'annuncio di Fiamozzi è arrivato ieri sera. Dunque c'è già il crisma dell'ufficialità. Di spalla sempre per il calcio. Vertice della fede del calcio. L'occasione è perduta di Gravina. E poi ancora in basso le sue parole. L'attuale presidente della Lega Pro, candidato alla presidenza federale. avremmo potuto farci conoscere nel mondo. Un vero peccato la fede del calcio che sarà commissariata. La foto notizia al centro maciullato dalle lame di una tramoggia. La terribile morte di un imprenditore a capistrello. Poi abbiamo sempre la cronaca in taglio medio. Ricatto homosex, il gigolo finisce in manette. Tuo fratello è gay, paga il mio silenzio. Ma l'uomo va dai carabinieri e lo fa arrestare. E poi in basso all'Aquila Duomo, sì ai lavori, no alle fake light. E andiamo ora a vedere la prima pagina della città, il quotidiano della provincia di Teramo. Due inchieste sui decessi al Mazzini. Questa l'apertura è disposta all'autopsia sul cinquantenne morto dopo una radiografia e l'anziano caduto in casa. E poi a Sant'Egidio ruba il banco, matta la nonna e spende 8 mila euro. A Montorio e al Vomano sono inciampato ed è partito un colpo di fucile. E poi al centro la fotonotizia, campagna elettorale a spese nostre, conferenze in regione. Il governatore viola la par condicio. E poi di spalla, nominato il pupillo, la candidatura di Mariani sblocca le nomine Ater. Roseto e Pineto, un piano per evitare spiagge chiuse d'estate. In basso il Coba vince la battaglia sui rifiuti. Giulia Nova, il Consiglio di Stato dà ragione ai balneatori. Infine per lo sport, anche per il Teramo, ultime ore di calcio mercato. Via Tulli e Barbuti. A Teramo arriva il centrocampista, il centroavanti a quadro. Vediamo ora le prime pagine delle testate nazionali. Più tardi torneremo alle locali. Ecco qui, apriamo con il Corriere della Sera. L'apertura Prodi con il PD e per l'unità Lira di Grasso. Nuovo caso nei 5 stelle in lista una ex dem. Poi sotto la testata Federcalcio e Lega, due commissari e la soluzione Malagò. E poi la fotonotizia. Ecco qui, smog, l'ultimatum dell'Europa. Il piano e le multe. L'Italia è tra i 9 stati sotto esame. In taglio medio, agenzia UE del farmaco. Doppio ricorso per Milano. I dati forniti da Amsterdam sono incompleti. Vediamo ora la prima pagina di Repubblica. Ecco l'apertura. Forza Italia, il caso Cesaro sul voto campano. Giudice a rischio. Andò alla convention. Guida, processo per mafia ai fratelli del deputato. Sinistra Prodi a Grasso. Renzi ha sbagliato, ma scelgo la coalizione. E poi questa fotonotizia al centro. Il viaggio di un grande fotografo tra i ghiacci feriti dell'Antartide. In basso la crisi di Barcellona-Catalogna. Torna l'attenzione. Noa Puigdemont, presidente. Bloccato il nuovo Parlamento. La storia. Kabul era un fiore. La prof raccoglie le poesie composte dai migranti. E poi la quarta pagina. Calcio sconfitto dal palazzo agli stadi. Così può uscire dal suo labirinto. Vediamo ora la prima pagina del fatto quotidiano. L'ultimo regalo. Lotti, la marchetta per la palestra di Carrai. Socio inguaiato col fisco. La leggina ad personam. E poi la carica degli inquisiti. Forza Italia ha il record, ma il PD è ben piazzato. Questo in merito alle candidature per le imminenti politiche. In basso, in commissione, banche, tutto insabbiato. Il PD scrive a Forza Italia. E Forza Italia lascia fare. Grande inciucio sulla relazione Casini all'Acqua di Rose. E poi le parole di Alessandro Di Battista. Il Movimento 5 Stelle ha cambiato pelle. Nessuno indispensabile. Avanti. E siamo con il messaggero. L'apertura, soldi alla scuola. La lite sul merito. Nella trattativa entra il bonus di 200 milioni dedicato ai premi, ma sull'utilizzo è braccio di ferro. Il Consiglio di Stato boccia i corsi di laurea solo in inglese. La Crusca proteggiamo la nostra cultura. E poi sotto la testata, anniversari dal Viet Cong freddato a Saigon al volo dalle Torri Gemelle. Gli scatti simbolo della storia. Poi ancora la fotonotizia dedicata allo sport e alla Roma. I big della Roma sul mercato nei bilanci è spiegato perché nuove cessioni. O serve un aumento di capitale. In taglio medio, discorso sull'Unione, la sfida di Kennedy Junior. Trump toglie il bando per i paesi islamici e prepara sanzioni per gli amici di Putin. Poi la politica, alleanze, la stoccata di Prodi. Leu divide il centro-sinistra, assista al PD e grasso colpa di Renzi in Forze Italia. Un caso campagna. Proseguiamo e siamo alla prima pagina di Libero. L'apertura, oddio, scioperano pure i profughi. Sistema dell'accoglienza al collasso. A gennaio decine di proteste di africani in tutta Italia. Cittadini esasperati, ma anche gli immigrati non ne possono più di essere mantenuti per non fare nulla. L'unica soluzione è rispedirli da dove sono venuti. L'integrazione si è rivelata una favoletta. E poi la fotonotizia dedicata a Pier Ferdinando Casini. Il volpone non finisce in pellicceria. Casini, nonostante il fallimento della commissione banca, rimane ancora a galla. E poi, sempre in taglio medio, le liste elettorali non piacciono a nessuno. Fioccano le polemiche. Ci mancava solo il caso De Girolamo. La prima pagina del tempo, sempre la politica e le candidature. Ecco tutti i paracadutati d'Italia. La classifica, la boschi regina delle pluricandidature con sei collegi per vincere facili. Almeno qui le quote rosa funzionano. Dalla Boldrini con cinque in giù. E un trionfo al femminile. Poi sotto la testata due di spada, accusa elettorale, il PD contro De Sidi, 5 Stelle, che balla col pugile di Ostia, fotografato col PD del Rio. E poi la fotonotizia, il tempo di Oscio. Appena c'è in attimo, te posso parlare su Tirol Bank. Le parole in virgolettato che vengono accostate alla figura della Boschi, candidata appunto tra le altre cose in Sud Tirol. Maria Elena appunto si ambienta a Bolzano. In basso, udienza pubblica per Dell'Utri. Decisioni il 2 febbraio illegale. Porte aperte, così si vedrà che sta male davvero. Proseguiamo e siamo al sole 24 ore. Ecco l'apertura maxi intesa nel Welfare USA per 1,2 milioni di dipendenti. Accordo JP Morgan, Amazon, Berkshire per tagliare i costi. Nell'editoria finanziaria Mossa di Blackstone punta il 55% delle attività data di Reuters. Poi ancora andiamo a vedere il manifesto con questa apertura. Avanti miei Prodi, voto centro-sinistra. Liberi uguali non lavora per l'unità. Prodi attacca l'EU, benedice la coalizione e riapre la sua tenda nel PD. Le dure repliche di Grasso e Bersani al padre dell'Ulivo. Le divisioni le ha volute Renzi e Bologna lo costringerà a votare Casini anziché Errani. Passiamo alla stampa. Ecco l'apertura. Banca e Forza Italia salva il PD. Intervista con Casini. Relazione influenzata dalle candidature. Ma niente patti occulti. I partiti alle prese con la questione morale condannati o imputati. In molti rischiano i seggi per la legge Severino. La fotonotizia, ecco qui, smog ultimatum dell'Europa a Roma. La commissione deferimento alla Corte US. Non ci sarà un nuovo piano entro dieci giorni. L'energia alternativa è l'unica risposta, scrive la stampa. E poi il giornale. Ecco qui l'apertura. Centrodestra, flat tax. Ecco il piano. Svelate le coperture economiche per la rivoluzione fiscale. Prodi si schiera con Renzi e contro Grasso. E poi sgarbi quotidiani. Il razzismo di fatto, di travaglio. Caccia il socio candidato col Cavaliere. E poi ancora in basso, bocciato il piano profumo. Fimeccanica punita in borsa. Siamo al mattino. L'apertura. Prodi boccia Grasso divide. Voto PD. De Girolamo a Imola. Carfagna non mi ha difeso. Berlusconi ingannato. Ma Forza Italia la smentisce. Le polemiche dopo la presentazione delle liste. La replica del leader di Leo. Centrosinistra spaccato per colpa di Renzi. E in taglio medio. Cesaro. Il caso del giudice al CSM. Cioffi fotografato con esponenti di Forza Italia a Ischia. Dovrà giudicare i fratelli del candidato. Siamo alla verità. Mance elettorali già in fumo. Gli aumenti agli statali sono a rischio. La Corte dei Conti non ha ancora dato parere favorevole ai nuovi contratti voluti dal governo. Regioni e comuni non hanno i soldi. Oltre 1,3 milioni di lavoratori resteranno a bocca a sciutta. E poi la fotonotizia. La Corte UE c'è la libertà di usare Gesù negli spot. E infine in taglio medio. Prove d'inciusso in Commissione Banche. La relazione finale della maggioranza passa solo grazie alle assenze dei senatori di Forza Italia. E chiudiamo la rassegna delle prime pagine nazionali con l'avvenire DAT rendere chiara una legge nata grigia. Da oggi in vigore il biotestamento da valorizzare l'incontro tra autonomia decisionale del paziente e responsabilità del medico. No ad un'applicazione rigida. L'obiezione è prevista. E adesso torniamo ai quotidiani locali. e diamo uno sguardo a pagina 2 e pagina 3 del centro. Ma vediamo anche la pagina del messaggero. Insomma ci occupiamo della politica e delle candidature in particolare nella nostra regione. Abruzzo verso il voto del 4 marzo. Uninominale 7 sfide fra Camera e Senato. Chiavaroli a Pescara dovrà vedersela con Dinino e Dinicola. Cialente all'Aquila affronta Quagliariello e la Movimento 5 Stelle Papola. Qui vediamo tutte le liste con i vari candidati. I 5 Stelle sbarcano a Scanno. La giornata tipo dei candidati del Movimento in giro per l'Abruzzo sui mini van. E poi ancora da Alfonso candidato si taglia lo stipendio con una lettera in veste e lolli. Io porto l'Abruzzo al governo. E poi in basso il ritorno di Srur e l'esordio di Panara. Lavoro e welfare al primo posto. PSI Verdi e una civica tutti insieme a sostenere il centro-sinistra. Poi altre reazioni. Acerbo, D'Alfonso dimentica gli altri abruzzesi al governo. Febbo, D'Alfonso usa la regione per fare campagna. Vediamo anche sul messaggero la pagina relativa alle elezioni e alle candidature. Ecco qui il nuovo Gaspari. Sono io, D'Alfonso, prenota un ministero. Scelta ragionata. Lascio l'Aquila per riportare l'Abruzzo al governo. La rotta delle larghe intese dopo il 4 marzo sarà necessaria flessibilità. E poi ancora in basso leggiamo il Presidente rivendica la difesa dei tre capolista al tavolo nazionale. La prima battaglia sarà contro la SNAM. La sfida agli avversari. Ho percorso 190.000 chilometri e dall'età di 29 anni sono abituato a lavorare 16 ore. Questo dice il Governatore. E poi ancora gli esclusi. Di Stefano alza la posta. Fermo un giro ma sono pronto per guidare la regione. Anche Gianni Chiodi accusa Forza Italia. Mi hanno impedito di rappresentare i territori ai quali ho dedicato 10 anni. Il caso Martino tiene banco all'Aquila. Io alla Leopolda solo in veste di imprenditore. E allora vediamo il servizio realizzato ieri dal Tg6 sulle candidature nella nostra regione. Tra chi esce dalla porta e rientra dalla finestra vedi l'ex governatore della regione Abruzzo Gianni Chiodi silurato da Forza Italia e ripescato capolista alla Camera nel collegio Aquilano Terramano per noi con l'Italia. Quarta gamba del centrodestra. E che invece è rimasto con un pugno di mosche proprio all'ultimo vedi di Stefano nel centrodestra, oggi noble nel centrosinistra, si è composto il quadro delle candidature alle politiche del 4 marzo. Saranno 180 i candidati tra le liste maggiori. Candidature che sono destinate però a lasciare strasciche all'interno delle segreterie dei partiti. Ad essere critici soprattutto gli amministratori locali, poco rappresentati a destra come a sinistra. Nel centrodestra il rinnovamento annunciato da Forza Italia e dal coordinatore regionale Pagano segna anche una profonda spaccatura interna al partito. Di Stefano Febbo e Sospiri, con toni diversi, aspettano alla finestra i risultati dello spoglio. Se non dovesse arrivare un risultato positivo per gli azzurri, soprattutto nei collegi uninominali, finirebbe sotto attacco la linea Pagano avallata da Berlusconi. Infatti, Lorenzo Sospiri in una nota sottolinea come la scelta dei candidati abruzzesi richiami innanzitutto una importante assunzione di responsabilità, soprattutto per il coordinatore regionale Pagano. Anche a sinistra e nel PD non mancano gli scontenti. Nel Taramano la frattura fra la corrente Mariani e quella Ginobla è destinata a trascinarsi fino alle prossime elezioni regionali. Per ora è passata la linea dettata dal governatore D'Alfonso, che dopo settimane di dubbi di manzoniana memoria ha deciso di accettare la candidatura come capolista al Senato. Per il Presidente potrebbe essere l'occasione per zittire i dissidenti interni alla sua giunta e alla sua maggioranza, ma in caso di risultato negativo le divisioni potrebbero accentuarsi. Resta sempre il nodo da sciogliere ed Alfonso andrà davvero in Parlamento o resterà a governare l'Abruzzo? Tra i Cinque Stelle a tenere banco è la GAF nazionale sulla candidatura di Rinaldo Veri, Ammiraglio Ortonese, già candidato a sindaco nelle passate amministrative e consigliere comunale del Partito Democratico. Ieri era stato presentato dal candidato premier Di Maio assieme ad altri esterni al Movimento, come l'ex direttore del centro Primo Di Nicola. Ma nessuno aveva controllato i suoi trascorsi e l'ammiraglio non sapeva del regolamento interno al Movimento che impediva la candidatura. Nel frattempo, tornando nel campo del centro-sinistra, oggi è stata presentata a Pescara la lista insieme che correrà in Abruzzo. Quest'alleanza con i Verdi e con alcuni movimenti civici porterà quel consenso aggiuntivo che è importante sia per superare lo sbarramento del 3% ma anche per poter far sì che anche l'Abruzzo diventi protagonista e perché no, elegge un proprio rappresentante del Parlamento nazionale. A sinistra in liberi uguali è tempo di mettere da parte i mal di pancia interni che comunque restano tra la vecchia guardia, capeggiata da Melilla, e i nuovi ingressi sostenitori della linea di Pietro Grasso come Marinella Sclocco. Ancora più a sinistra questa mattina sono stati presentati i rappresentanti di potere al popolo che raccoglie l'eredità di Rifondazione Comunista. Oggi viviamo in una società troppo precarizzata dove i giovani non hanno più sogni, non hanno più futuro. Vogliamo restituire i sogni ai ragazzi e vogliamo che tutto questo venga condiviso con la gente, con le persone che noi siamo. Non è possibile vivere in una società dove le disuguaglianze sono diventate abissali. Proseguiamo ora sul centro, pagina Abruzzo, assistenza ai disabili. Mancano 8 milioni di euro. I lavoratori delle cooperative sociali da sei mesi sono senza stipendio. Il consigliere regionale Pierpaolo Pietrucci va trovata subito una soluzione. Poi Falchi, sbagliata la legge regionale sui cammini, parla il presidente dell'associazione Walkers. Poi ancora in basso vediamo Colella, la regione si chiuda il bando, Santa Croce SPA concessione in bottigliamento. Poi rappresentanza Abruzzo e Molise di Crescenzo alla guida della Femca CISL. Proseguiamo, siamo alle pagine di Pescara. Il palazzo sul lungomare, incompiuto da vent'anni, sarà demolito e ricostruito. Il comune sblocca i permessi per far riaprire il cantiere sulla riviera Nord. Il proprietario deve realizzare un nuovo edificio con un piano in meno. Poi ancora pagina 13, studente siciliano morto nella Pineta, oggi l'autopsia, stroncato da Malore, 25enne della provincia di Agrigento, viveva vicino all'Aera Verde. L'ultima telefonata alla madre. Ecco qui il giovane Giuseppe Sardo Viscuglia nel tondo. In basso, sempre per la cronaca, stalking all'amico Iman Vaccaro, torna in libertà. Avanti ancora il mercatino per i senegalesi, sarà un ghetto nel sottopasso. La Confcommercio esprime delusione e sconcerto per l'approvazione del progetto in consiglio. Cuzzi non è la migliore soluzione, ma un passo in avanti, sì al doppio senso, in corso vittorio. Poi in basso, Guerino, proroga per i lavori fino a giugno. È arrivato il Via Libera a proseguire l'intervento sul lungomare nord. Corneli, puntiamo all'apertura. Proseguiamo sempre con le pagine di Pescara. In strada contro la pista ciclabile, manifestazione di residenti e commercianti di Via Muzzi, ma ci sarà Pescara Bici. Vogliamo il dialogo. Poi in basso, versi sugli stalli per le due ruote, dopo le quartine lasciate sui manubri, parte il progetto BIS di borracce di poesia. E proseguiamo ancora, sempre nelle pagine di Pescara. Operazione del nucleo antidegrado, pulizia e sgomberi all'alba sulla Golena dei disperati. Ecco alcuni scatti dell'operazione appunto di pulizia in alcuni tratti agli accenti alla Golena. A istoria, la guida tattile preparata dagli studenti. Creato a Pescara il nuovo progetto interattivo per riprodurre monumenti e territori, immediata l'adesione di scuole in tutto l'Abruzzo. Insegniamo a scoprire le città. Avanti ancora, siamo a Francavilla, bloccati dopo un furto in casa. Tre arresti. La finanza scopre i ladri mentre caricano la refurtiva su un'auto e li pedire. Nel terzetto ci sono padre e figlio. E ora siamo a Montesilvano, mezza giunta in Lizza per le elezioni politiche del 4 marzo. Città ben rappresentata in tutti i partiti. Nella prossima tornata tre assessori e una consigliera puntano a lasciare il comune. Ecco qui i nomi, Walter Cozzi, Manuela Musa, Deborah Comardi, Barbara Di Giovanni, Sonia Ciarfella e Andrea Colletti. Che rappresentano appunto Montesilvano nella prossima tornata del 4 marzo. In basso, il mio sogno, le Paralimpiadi di Tokyo. Andrea Silvestrone, convocato al Raduno Torinese della Nazionale Azzurra di Tennis in carrozzina. E proseguiamo sempre sul centro, restando a Montesilvano, giochi, musica e pignatta. E qui il Gran Carnevale a Montesilvano. Gli appuntamenti del fine settimana a Porto Alegre per i bambini. Alvio un calendario di eventi fino al 13 febbraio con maschere e supereroi. Poi ancora a Penne, terapie negate. Da domani a 38 disabili, niente accordo con la Regione. A Penne, il direttore del Paolo VI, Don Marco Pagnello, informa le famiglie. Non siamo autorizzati a erogare prestazioni. Siamo alla pagina di Chieti. Trappola in piazza San Giustino. Ricatto per il sesso. Gigolo arrestato. Giovane dell'Est minaccia un anziano. Dammi 1.500 euro. Dico che siamo stati insieme. Attento, io sono uno zingaro. E poi a Chieti, sempre, si ribalta il camion delle patatine. Moglie e marito feriti nell'incidente causato da un salto di corsia. A Vasto, infermiere aggredite in pronto soccorso. 16enne arriva al Sampio in stato alterato. Due operatrici tentano di calmarlo e restano ferite. Poi ancora, in basso Ateneo, in CDA, entrano Di Primio e Trubiani. Sostituiscono Palumbo e Tommasi. Il rettore delega Fornari ai servizi informatici. Siamo ora a L'Aquila, nella pagina Aquilana. Ma in realtà andiamo in Valle Roveto per questa tragedia. L'imprenditore Di Marco, ucciso dall'impastatrice, aveva 53 anni e caricava cemento su un camion. Lutto cittadino a Capistrello. Era il titolare della Codimar, presidente provinciale della Cassa Edile. Vediamo il servizio. Era del 1965, aveva 53 anni, ed era nato e cresciuto a Capistrello, centro rovetano, dove aveva fondato, assieme ai fratelli, la ditta Edile Codimar, anagramma dello stesso cognome della famiglia Di Marco. Roberto oggi ha perso la vita in un tragico incidente avvenuto sul posto di lavoro nell'impianto sito nella frazione rovetana di Corcumello, a due passi solamente di distanza dal comune principale Capistrellano. Una morte improvvisa che ha sconvolto non poco la comunità, conosciuto da tutti e da tutti stimato. Sul posto dell'incidente occorso verso le ore 7 di questa mattina, i vigili del fuoco del distaccamento di Avezzano, i carabinieri della compagnia di Tagliacozzo, coadiuvati dai colleghi militari della stazione di Capistrello per i rilievi e gli accertamenti del caso. L'area dove sorge l'impianto della ditta Edile è stata transennata e posta sotto sequestro dalla magistratura. Verrà aperta un'inchiesta sul caso. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo sarebbe caduto all'interno di una impassatrice in azione e sarebbe stato risucchiato. Per lui non c'è stato davvero nulla da fare. Il titolare era sul posto assieme ad un dipendente della ditta. La persona, che era con il proprietario, ha provato anche a spegnere la macchina, ma era già troppo tardi. Roberto Di Marco era stato da poco eletto presidente della Cassa Edile dell'Associazione Nazionale Costruttori della provincia di L'Aquila, subentrato proprio al cadere dell'anno nuovo. Lascia una moglie e due figli e maggiorenni. Sono distrutti tutti quanti fisicamente e mentalmente per quello che è accaduto. Quindi siamo vicini come sempre alla famiglia, ma sono un po' parole retoriche sotto il certo punto di vista. È che è una persona amata e stimata nella comunità e quindi ha lasciato un po' tutti quanti essere facchi per l'incidente come si è verificato. Andiamo a chiudere con le pagine della cronaca del centro. Sempre su quella aquilana, la curia pronta a costruire due nuove chiese. L'Aquila, parla l'arcivescovo Petrocchi. Vogliamo contribuire alla rinascita spirituale della città. La pagina Terramana, colonnella, assalto alla Salaslot, ma il colpo dei banditi fallisce. I ladri sfondano la vetrata con una macchina. Dopo aver fatto un tentativo uguale a Grotta Mare, non riescono a portare via la macchinetta a cambia soldi grazie all'antifurto nebbiogeno. Poi in basso a Sant'Egidio ruba 8 mila euro dal bancomat della nonna. Aveva fatto prelievi per alcuni mesi prima che l'anziana lo scoprisse denunciato. Invece a Silvi, il commissario, pensa alla tassa di soggiorno ed è protesta. Noi ci fermiamo qui per la prima parte di mattino 6, ma dobbiamo ancora sfogliare messaggero. la città e anche le pagine dello sport. Non andate via, ora spazio alle previsioni del tempo e a un po' di pubblicità. Eccoci rientrati, la seconda parte di mattino 6 che riprendiamo con le pagine di Pescara del messaggero Abruzzo. Guerino, fiducia a tempo per i lavori. Fissata al 20 giugno in conferenza di servizi del Comune la scadenza improrogabile del permesso a costruire la proroga ha anche bloccato la procedura di revoca della concessione de' Magnale. Corneli, ora avanti tutta. L'assessore Teodoro vogliamo ridare al centro città uno stabilimento storico rispettando però le regole. Controlli a tappeto in riva al mare, sanate opere abusive. Altri bagnatori hanno invece presentato ricorso. E poi sempre a Pescara, Corso Vittorio ha doppio senso. Il commercio rialza la voce. Danelli, Dolci, Fava e altri negozianti tornano a chiedere l'apertura alle auto ma resta confermato il piano per i bus. Avanti ancora e siamo alla vicenda mercatino etnico. Perché no? Spesa esagerata. Il tunnel sarà un ghetto. Confcommercio, Confesercenti e Viviamo Pescara. Gli ambulanti andavano messi nei mercati rionali. Si teme diventi un nuovo spaccio di false griffe. Poi perché sì? Da quest'altra parte. Riqualificazione e integrazione è la scelta giusta. On the road, CGL e Pescara hanno evidenziato la crescita culturale della comunità senegalese. Gestione affidata a operatori in regola e inseriti in città. Una partita, ci ricorda il messaggero, cominciata tre anni fa. Vediamo il servizio del TG6. Ci sono volute 19 sedute di Consiglio Comunale, quasi uno strappo di maggioranza tra PD e Sinistra Italiana, per approvare la delibera per l'istituzione del mercatino etnico nel tunnel della stazione centrale di Pescara. 20 mesi fa ci fu lo sgombero dell'area di risulta occupata abusivamente dagli ambulanti della comunità senegalese accusati anche di vendere merce contraffatta. Ieri sera l'assise civica pescarese ha approvato con 16 sì e 11 no la ristrutturazione del sottopassaggio, oggi inutilizzato, che costerà circa 250 mila euro. Successivamente si dovrà fare un bando per individuare il gestore dell'area. Quello abbiamo investito 250 mila euro per ristrutturarla, per dargli la reazione, per mettere le telecamere, per fare tutto nei crismi della legalità. Cosa che sarà fatta, i senegalesi hanno fatto una cooperativa, non era mai stata fatta, sono impegnati ovviamente a vendere prodotti non contraffatti, perché è contrario alla legge, non lo potrebbero fare, sanno benissimo che se lo facessero chiuderebbero il giorno dopo. Sempre contrari all'istituzione del mercatino etnico gli esponenti della minoranza di centrodestra che avrebbero voluto inserire gli ambulanti regolari all'interno delle aree mercatali già presenti in città. Dai banchi dell'opposizione assicurano che se arriveranno al governo nella prossima tornata elettorale cambieranno questa delibera abolendo il mercatino etnico. La sinistra ha fatto un'altra scelta, una scelta ideologica dettata dalla sinistra più retriva realizzare all'interno del sottorelevato ferroviario nell'area di risulta dovrà nascere la nuova Pescara perché sicuramente quell'area si svilupperà in un senso completamente diverso da un mercatino multietnico, pseudo multietnico, come abbiamo sempre detto. Non era giusto così, hanno scelto di farlo. Noi abbiamo votato contro, ovviamente combattendo fino alla fine. Critiche al mercatino etnico vengono mosse anche dalla Confcommercio di Pescara che esprime delusione e sconcerto per l'approvazione da parte del Consiglio Comunale della delibera. Si tratta, continua l'Associazione dei Commercianti, di un progetto sbagliato che utilizza preziose risorse pubbliche osteggiato dai commercianti e dalla maggior parte dei cittadini. Rubati cimeli sportivi in casa dell'arbitro Elenito Deliberatore, i tre ladri subito arrestati dalle fiamme gialle nel bottino anche una maglia di Messi con l'autografo del campione. Poi a Montesilvano in bicicletta dalla Riviera a Moscufo Montesilvano vuole la bandiera gialla. Le piste realizzate quelle in cantiere daranno alla città i titoli per competere nel concorso bandito dalla FIAB. Avanti ancora, siamo alle pagine Aquilane con le parole dell'arcivescovo Petrocchi saremo vigili sul recupero del Duomo. Il vescovo saluta con soddisfazione i lavori per la rinascita della cattedrale. Non ci interessa incidere sull'appalto ma che l'opera sia gestita saggiamente. Il cantiere sarà aperto entro l'estate, il prelato, non possiamo occuparci di una struttura così importante. E poi di Spalla SOS per via 20 Settembre la strada è pericolosa all'appello dei residenti dopo una serie di incidenti per ora l'asfalto sarà reso ruvido. E poi ancora in basso tornando all'argomento precedente alle parole dell'arcivescovo Petrocchi la Curia costruirà a breve due nuove chiese. Proseguiamo e restiamo all'Aquila società partecipate arriva il via libera al bando di selezione la giunta ha varato uno dei documenti più attesi attualmente i dirigenti dell'azienda sono tutti in prorogazio il compenso sarà il 50% fisso e l'altra metà legato agli obiettivi da raggiungere. Poi in basso Masterchef stasera la sfida ai fornelli nella cornice di Campo Imperatore i concorrenti dovranno cimentarsi con i prodotti locali al condurre la puntata sarà lo chef e ormai star televisiva Bruno Barbieri proseguiamo siamo in Valle Roveto abbiamo visto in precedenza il servizio muore stritolato dagli ingranaggi incidente sul lavoro a Capistrello dove un imprenditore edile è stato ucciso dal macchinero che cercava di sbloccare l'orrore sotto gli occhi del fratello e dei lavoratori della ditta il dolore del sindaco era bravo capace e generoso con tutti poi in basso Cam l'ex sindaco boccia denunce irregolarità nei compensi ai revisori e ora le pagine di Chieti la cronaca tuo fratello è gay paga o lo rovino il ricatto del gigolo arrestato un macedone di 28 anni titolare di un sito di incontri in piazza San Giustino alla consegna del denaro da parte della vittima David Gasi accusato di estorsione è stato bloccato dopo aver intascato 1500 euro ad accusarlo anche una catena di sms secondo i carabinieri la relazione con un uomo di 66 anni di Bucchianico è completamente inventata e poi giallo del cantiere nell'area Megalo 2 d'Alfonso alti i rischi ambientali dopo l'esposto del WWF il direttore dei lavori assicura solo opere legittime a servizio del centro esistente e poi ancora siamo a Lanciano mano pesante dei vigili 16.000 multe il bilancio 2017 della Polizia Municipale in cifra spiccano le 410 auto rimosse le 103 sequestrate con il Targa System il comandante Levante a corto di organico il lavoro aumenta l'emergenza ZTL e l'indagine del Ministero e poi in basso sequestrate le carte del concorso alla Sasi vediamo il servizio la procura di Lanciano apre un fascicolo per abuso d'ufficio a carico della Sasi a seguito dell'esposto presentato da una concorrente esclusa dall'avviso di selezione in corso per l'assunzione di 67 unità lavorative gli ispettori del commissariato di Polizia di Lanciano si sono recati nella sede legale di località marcianese per vagliare la pratica relativa alla concorrente esclusa gli inquirenti dovranno verificare se ci siano state delle irregolarità nell'iter concernente l'esclusione della candidata all'avviso di selezione emanato dalla società che gestisce il servizio idrico integrato del Chietino e 92 comuni soci hanno risposto in 2300 aspiranti dopo le prove scritte svolte a dicembre stanno per concludersi anche le prove orali di fronte alla commissione composta da tre professionisti e nominata dalla S.p.a. dell'acqua attorno all'avviso non sono mancate le polemiche soprattutto a fondi di carattere politico da parte del centrodestra che ha denunciato a più riprese nei mesi scorsi presunte irregolarità segnalate al difensore civico regionale poi alla corte di conti e infine alla magistratura penale il presidente della Sasi Gianfranco Basterebbe ha sempre risposto dichiarando la bontà dell'operato svolto dal CDA che presiede al momento non ci sono indagati altri concorrenti esclusi hanno presentato ricorso al Tar Abruzzo eccoci rientrati proseguiamo sul messaggero morti sospette all'ospedale siamo alle pagine Terramane la procura avvia le inchieste due persone decedute in situazioni anomale le autopsie sono già state fissate per venerdì si tratta di Mattia di Mattia di 56 anni dell'83enne Pasquale di Davide il primo si è accasciato sulla scalinata del Mazzini il secondo trovato in camera senza vita è stata la ASL a segnalare i fatti alla magistratura indaga il PM Laura Colica come atto dovuto già stamattina i nomi degli indagati poi ancora di spalla contro la sosta selvaggia linea dura del comune di Terramo e poi Ater Nicola Salini nuovo commissario siamo a Giulianova auto dei vigili bloccate in garage i mezzi fermi i mezzi fermi perché in comune si sono scordati la revisione ancora guai una terza macchina viaggia con la marmitta rotta il comandante Roberto Iustini ha segnalato il problema ma non ha ricevuto risposte altro scontro col dirigente Pirocchi salvo novità dell'ultima ora gli agenti costretti di andare a piedi scoppia la polemica a livello politico lasciamo il messaggero Abruzzo ci torneremo per le pagine dello sport sfogliamo ora la città il quotidiano della provincia di Terramo siamo appunto nella città di Terramo abbiamo appena visto sul messaggero due inchieste per chiarire i decessi al Mazzini il magistrato dispone all'autopsia sul cinquantene deceduto dopo una radiografia sull'anziano caduto in casa la magistratura vuole scudere che vi siano state responsabilità mediche su entrambi i decessi di lunedì non appena verranno nominati i medici legali che seguiranno gli esami autoptici i primi indagati garanzia per i medici coinvolti proseguiamo ora la politica la candidatura Mariani sblocca le nomine Ater il pupillo Nicola Salini e commissario Bufera sull'inconferibilità del sub commissario Valeria Misticoni e poi ancora quartieri crocevia per il prossimo sindaco le associazioni stirano un manifesto della cultura da sottoporre ai candidati e poi ancora acque agitate in Leu per il veto su Giannella l'esclusione a prescindere del presidente Arci dall'uninominale ha spinto sì a ritirare le candidature la scelta preferire Stefano Alessiani a Giorgio Giannella per Sinistra Italiana rappresenta una occasione mancata poi Mimma Ulisse premiata con luce latte d'oro alla fratellanza artigiana la sfida dolciaria della tradizione promossa dalla condotta Slow Food il premio è dedicato alla migliore ricetta per il dolce della tradizione di Sant'Antonio Abate proseguiamo siamo a pagina 9 Gran Sasso Globo chiude per fare posto a Zara il nuovo marchio occuperà anche gli spazi contigui dell'ex OVS Cosmo punta sul rientro a Teramo città e ora le notizie dalla provincia pagina 11 sono inciampato ed è partito un colpo sparò per sbaglio a figlio e nipote il 74enne di Montorio in aula per l'accusa temeva fossero ladri la difesa l'imputato ha provato a spiegare l'accaduto sostenendo che si trovava in camera e stava provando a sistemare l'arma comprata da poco e che deteneva legalmente come altri due fucili poiché gli pareva difettosa l'accusa per gli inquirenti l'uomo ha sparato dopo aver sentito dei rumori sospetti nel cortile di casa avanti ancora siamo a pagina 12 a Sant'Egidio ruba la carta della nonna per fare shopping giovane di Sant'Egidio sper per 8 mila euro investiti in ristoranti il ragazzo è stato trovato in possesso di 40 grammi di marijuana nascosti nella sua abitazione e poi ancora il COBA ha vinto la battaglia sui rifiuti il Consiglio di Stato accoglie il ricorso dei balneatori tegola sulle casse comunali il retco attacca il consigliere critica PD e sindaco sulla gestione dell'igiene urbana e sulla tassa di soggiorno tutto questo a Giulianova e a Roseto un piano per evitare il bagno vietato di Girolamo gioca d'anticipo dopo il caso Borsacchio dello scorso anno il vertice a due oggi l'incontro con Roberto Verrocchio sindaco di Pineto per superare il problema dell'assenza di bagnini in spiaggia proseguiamo siamo sempre a Roseto pronte le alternative di sicurezza per le scuole l'amministrazione risponde a Di Buonaventura le sue proposte non erano idonee né adottabili l'allarme anche la dirigente scolastica dell'istituto comprensivo chiede al comune di individuare nuove aree per le emergenze le alternative per i punti di raccolta potrebbero essere il parcheggio vicino all'asle piazza della repubblica proseguiamo siamo alla pagina dello sport il Teramo in primo piano via Tulli e Barbuti a Teramo arriva a quadro il centroavanti va a Gavorrano l'esterno alla Triestina nello scambio che porta il mediano in bianco-rosso stasera stop alle trattative la punta ex-lumezzane si trasferisce in Toscana in prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo in caso di salvezza l'arrivo del mediano potrebbe cambiare le gerarchie a centrocampo scambio con Tulli asse tra il Diavolo e la squadra Giuliana a sinistra se parte diallo arriva Badan in forza al Prato uno sguardo alle prime pagine dei quotidiani di sport Gazzetta dello Sport Corriere e Tutto Sport ecco qui la Gazzetta l'apertura dedicata alla semifinale d'andata la prima semifinale d'andata di Coppa Italia Buffon Higuain Antinebbia Juve Coppa Italia nell'andata della semifinale 1-0 a Bergamo sotto la testata il mercato sprint Inter assalto finale Nerazzurro Pastore o Gaetan e Martinez Napoli Politano Stop e il Napoli va sull'olandese Klassen e poi a San Siro Riminci da Milan Lazio Caninci sfida immobile questa sera vediamo il Corriere dello Sport l'apertura numero 1 Higuain colpisce Super Buffon para tutto anche un rigore Atalanta deve arrendersi 0-1 sotto la testata l'intervista all'allenatore Carlo Ancelotti nazionale no un club Ancelotti si confessa in una intervista esclusiva Figgici bisogna fare subito chiarezza in Champions vedo il City favorito il Real si riprenderà e la Juve puntini puntini e poi sempre sul Corriere Politano Napoli a Oltranza alle 23 chiude il mercato poi Malagò e il CT abbiamo solo l'imbarazzo della scelta la prima di tutto sport Higuain e Buffon i fantastici due e poi di spalla Toro volata finale per chiudere l'affare Don Sa Samp Ferrero Giampaola Napoli vada dove lo porta il cuore Sarri niente Iunes Pastore Anzia Inter Icardi vicino al Real la rivelazione il blitz la Roma Vira su Blind veniamo ora alle pagine dei quotidiani locali siamo sul centro pagina 33 Malagò prepara la squadra per le riforme il presidente del CONI o il segretario Fabricini si avvarrà di collaboratori tra cui Costa Corte poi in basso l'intervista al presidente della Lega Pro Gravina candidato alla presidenza federale candidatura che non è andata a buon fine Gravina ho vinto lo stesso Tommasi non è stato chiaro se avessi inseguito soltanto la gloria personale avrei dovuto dire sì alla proposta di Sibiglia ma non avrei fatto il bene del movimento dice Gravina che poi prosegue Damiano della sua calciatori sapeva che con il 20% e votando scheda bianca al balottaggio sarebbe arrivato il commissario se lo vuoi evitare devi fare le alleanze invece puntini puntini queste le parole pronunciate nell'intervista al collega Rocco Coletti da Gabriele Gravina e ora il calciomercato e il Pescara il Pescara lavora soltanto sulle uscite alle 23 stop agli affari obiettivo ridurre la rossa a 25 giocatori Latte Latte rientra all'Atalanta Forte a Monza Selassia a Lecce Cappelluzzo torna a Verona Canute Ascoli e poi ancora in basso l'intervista al giallino uruguayano Edgar Elisalde il difensore compirà 18 anni il 27 febbraio il mondo di Elisalde io l'Uruguay la musica e il calcio italiano poi altri spunti nell'intervista nel mio paese il mito è Lugano ma il difensore più forte del mondo è Sergio Ramos sono studiato sei anni e sono diventato insegnante di chitarra adoro la cumbia e la plena Zeman è una voce fuori dal coro qui tutte le squadre pensano solo a difendersi e ora la serie C Teramo Monopoli scambio di portieri Bifulco Lewandowski Tulli può andare a Trieste per a quadro in bianco rosso Barbuti Valgavorrano Altobelli dice sì al Siracusa per la serie D Salta Fagioli San Nicolo prende Liguori Lavezzano perde Cerone per il derby con i Nero Stellati all'Aquila pagato il quarto rimborso e poi per il basket di A2 Maica in corona Carlino può fare la differenza in lungo di Pesaro Domenica Palamaggetti è amico dell'Ital americano un giorno vorrei giocare di nuovo con lui mercato piace la torre di Udine vediamo anche rapidamente le pagine dello sport del messaggero Abruzzo ecco qui Pescara il ritorno di Fiamozzi è realtà oggi a Milano si chiude il mercato verrà annunciato il terzino del Genoa resta in bilico fino alla fine il futuro di Valzania il Bari continua a spingere e poi l'ex Bellet fa le carte al Frosinone e al Delfino sabato la sfida dello stadio Benito Stirpe tra Frosinone e Pescara poi sempre sul fronte Pescara c'è il Via Libera per l'arrivo di Bunino società lavoro per l'acquisto del portiere Rosati Sharks siamo al basket ora superare il tabù trasferta dopo la vittoria del turno scorso Rosetani attesi alla prova di Udine contento puntiamo al bis fuori casa infine la serie C Teramo preso a quadro Giacomo Tulli invece ha dato il suo addio ieri è scattato lo scambio con la Triestina intanto San Domenico parla dei primi giorni in bianco rosso bell'ambiente ci sono i presupposti per fare bene per il rugby l'Aquila Ghizzoni Benedice Grant domani arriva il pilone Scuola Falcons l'ex azzurro ci hanno parlato molto bene di lui siamo alla fine di questo numero di mattino 6 che torna domani alle ore 8 la nostra consueta rassegna stampa vi ricordo gli appuntamenti con il TG6 delle edizioni odierne alle ore 14 alle ore 19 e alle ore 23 grazie a Claudio Di Giacomo in regia e grazie a voi per la cortese attenzione buona giornata Grazie a tutti Grazie a tutti